Siamo qui con Jonathan Oiosi che ci racconterà come C2 Group intende la scuola digitale. Allora, C2 Group che opera nel mercato delle scuole da oltre 20 anni ha seguito tutta l'evoluzione e la trasformazione digitale delle scuole. Nello specifico da quest'anno abbiamo deciso di investire sulla formazione dei docenti. Quindi abbiamo creato dei poli territoriali dove intendiamo far provare direttamente alle scuole che poi sono l'ultimo miglio di quello che è la trasformazione digitale le nuove tecnologie e i nuovi spazi di apprendimento affinché possano portare le buone pratiche all'interno dei propri istituti. L'idea è proprio quella di coinvolgere a livello nazionale tutte le realtà in modo tale che possano provare prima di eventualmente imbattersi in qualche cosa che poi non riescono didatticamente a sfruttare.